Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video su Roblox con il nostro amico Thomas Ciao a tutti ragazzi Oggi siamo su Brugal perché prima vi ho fatto vedere il nuovo aggiornamento Adesso c'è Thomas che mi ha detto Mi puoi far trovare tutte le macchine? Però questa qua non la so io Questa qua è possibile, non la so E anche questa non l'ho fatta Quindi ho fatto tutte queste tre Ok Ah tu hai fatta quella facile, questa No, nessuna, nessuna Ok premi quella facile E vedi delle caramelle a forma di triangolo Non la so qua Guarda io prendo questa così vado più veloce Guarda ce n'è anche una qui Una qui Ok qua Sì vai Tommy stanno tutti al centro di Brookhaven Sì guarda poi qua Non c'è una pianta E qua? Eh sì Io già le ho prese Questo Questo Wow non è facile, è facilissimo Tommy vieni sta qui Sì Aspetta che vedendo questo Ok Dove stai? Sono qui l'ultimo sta qua dietro Ok E poi io sblocchi il veicolo Ecco Tu non l'hai mai guidato? No ma vabbè Io l'ho guidato Guarda io Guarda poi ci sta anche questo Aspetta ci sta anche questo Eccolo Eccolo Eh guarda ci sta anche questo Poi che non ho capito che cosa E poi c'è il monster truck Questa qua non la vuoi sbloccare Sì Ah stavo con l'altro E poi lo scrive Sì facciamo quella la La macchina zucca Cattiva La macchina zucca Questa qua Qua ne devi trovare 20 però Eh Dio Vediamo 20 Sì vero Allora guarda Allora Tommy prendi lo skateboard Skateboard Perché qua non sono tutti al centro Ah ok Ah ce n'è una qui Poi ce n'è una qua al centro Eccola Poi ce n'è una qui Poi ce n'è una qua Eh sì Ora Poi ce n'è una qui Poi Poi ce n'è una qui Poi ce n'è una qui Poi ce n'è una qui E c'è una lì nei grattacieli Poi ce n'è una lì all'ospedale E anche una lì vicino Siamo a 13 E questo è 14 Guarda anche vicino alla caserma della polizia Non è preso Poi dovremmo andare qua fuori Eccolo 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 Ma Matti Io prima ho visto qualcosa di nero Pazzare Poi ce n'è anche una pure alla scu Eh vabbè Ma qua stanno tutte in giro Cioè ma noi siamo Che lì non ce ne accorgeamo Eccola C'è un petro Eh sì Allora ecco Di sotto Aspetta Ok ragazzi Allora abbiamo preso questa Poi ce n'è anche una lì Ah L'ultima dovrebbe essere qua dietro penso Aspetta Non mi ricordo dove era l'ultima No Forse Forse era qua Era qua dietro Non aspetta Sì era qua dietro Eccola Eccola E' anche Sbloccato anche questo veicolo Ok Ne siamo Dei togliere lo skateboard Se non te la fa mettere Sì perché non posso mettere due veicoli Ecco Guarda dietro c'è scritto pure RIP Significa morto Dammi ora manca l'ultimo veicolo Il monster truck Sì Scusa Guarda adesso metto pure questo Così ti fa compagnia Ecco Guarda metto pure il monster truck Con gli scheletri Allora prendo lo skateboard e andiamo a prendere il monster truck Guarda ce n'è una qua dietro Guarda qui Guarda guarda ho sbagliato come si toglie E devi premere le caramelle Oppure puoi premere a caso Cioè tipo premi quello là hard No perché ho premuto l'ultimo per lo sbaglio Ehm aspetta Premi le caramelle Poi c'è scritto quit unt E devi premere con il pollice in su Dove sta la caramelle Dove sta la caramelle Qui guarda L'hai presa No vedo che io ho sbagliato Ho premuto l'ultimo per lo sbagliato Ho premuto l'ultimo per lo sbagliato E prendi la caramelle Quelle là Che hai sopra Ehi stanno Di quante ne prendi E' da un'ora che te lo dico Non ho capito E' da un'ora hai capito Ah premi hard Difficile questo E' muto Eccolo una Ah una ce l'è lì Una sta sopra la fontana Sì lo vedo E' lì Io non lo so come ho fatto a prendere il monster truck Che ce l'ho fatta Aspetta Aiuto Vai tanto già l'ho presa quella Oh non ti ho preso Aspetta voglio provarci Ok l'ho presa Allora Dove sei andato Sul tetto del nuovagone E' sul tetto Aspetta però Aspettami Ah poi c'è qua Il tetto Guarda qui Ah sei qui Qua dobbiamo andare qui Penso No qua no Dobbiamo andare qui E stiamo a quattro Poi dobbiamo andare qua Che Va dietro all'ospedale Guarda ce ne sono due Ah ok Una qui e una là Mia qui poi? Poi ce n'è una qui Guarda Guarda vedi quella caramella? Dove? Guarda vieni Eh si qui Siamo a otto Poi ce n'è una qui Qui sopra? Si Poi deve stare una là nelle altre parti Poi ce n'è una qua sopra nella porta 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 La ci sono i nostri veicoli Ah è vero Poi ce n'è una sullo scivolo Anche sull'acqua Io 17 Ok Allora poi dobbiamo andare qui Siamo a 18 Siamo a 18 E qua sopra No aspetta qui Poi dobbiamo andare qui e vedi queste qua Guarda sta qua sopra Poi ce n'è una lì Siamo a 20 Eccola Siamo a 20 Ce ne mancano altre 5 Sì Sì sono 5 Che bello E così sblocchi già tre veicoli Che bello E poi noi dobbiamo trovare anche gli altri due Io non ce ne ho quei due Quando forse riusciremo a vedere un altro video Non lo so Non lo so Forse si Ah proviamoci Ah vedi c'è una lì E' 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 una lì Come abbiamo fatto a non vederla E' una lì Ma mamma mia però questi cartelli arancioni mi sembrano caramelle E' una lì E' una lì Io non trovo ancora nessuno Forse è qui Tu ne vedi qualcosa? No Io ti sto seguendo Allora ragazzi abbiamo trovato un'altra Ci ne mancano altre tre Dove? Qua dietro Ma però sono nasconsissime Vabbè come ho fatto? E poi rimancano No non so come ho fatto a trovarle Ah e poi ce ne mancano due Lo so Ce la faremo Due sì Sì vero Sì L'altro dove dovrebbe essere? Eccolo! Dove? Questo. È vero! 24. E poi è sbloccato il mega veicolo Cicamaster coso. Sei felice che ti ho fatto trovare tutti i cosi? Sì! Guarda, adesso è finalmente il monster truck. Ma non posso mettere quello là, lo scheletro? No, non posso. Allora ragazzi, quindi adesso ci vediamo in una prossima parte per trovare gli altri due veicoli. Noi ci vediamo nella prossima parte. Ciao! Ciao!